Signore e signori buonasera ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale questa sera mi è stato chiesto e volentieri lo faccio di parlare di chirurgia refrattiva chirurgia refrattiva che utilizza il laser a ecimeri un particolare tipo di laser cosa fa questo metodo di trattamento non fa altro che rimuovere delle parti microscopiche della nostra cornea con estrema precisione per rimodellare la sua curvatura la cornea sarebbe la membrana più esterna una sorte di barriera fra il nostro occhio e l'ambiente esterno questa che viene chiamata dagli specialisti vaporizzazione a freddo del tessuto corneale si utilizza per trattare difetti visivi quali la miopia la miopia è stato il primo vizio che è stato trattato miopia vuol dire vedere male da lontano ma anche l'ipermetropia che vuol dire vedere male da vicino attenzione non facciamo confusione con la presbiopia che invece è quella tipicamente del adulto e dell'anziano in cui non riescono a leggere il giornale se non allungano le braccia in modo di allontanare quindi l'oggetto della lettura poi c'è ancora l'astigmatismo astigmatico è colui che non riesce a mettere bene a fuoco l'astigmatismo può essere anche correlato con gli altri visi refrattivi allora miopia ipermetropia e astigmatismo possono essere trattati con questo laser a ecimeri per la presbiopia ci sono ancora alcuni dubbi cioè sono solo alcuni centri che utilizzano questa tecnica per la presbiopia ma non viene consigliata allo stesso livello degli altri vizi di refrazione dei quali si ottiene una esperienza notevole quando viene consigliato l'intervento perché è ovvio che tutti questi vizi sono corregibili con lenti con occhiali o lenti a contatto però c'è a un certo punto che o per difetti importanti o per difetti sbilanciati di un occhio rispetto all'altro o ancora per un'intolleranza alle lenti lenti a contatto oppure per lavori particolari per esempio prendiamone uno per tutti l'avviatore cioè quello che che fa il pilota d'aereo viene spesso sottoposto a questi interventi finalizzato ad eliminare le protesi gli occhiali le lenti a contatto e ottimizzare la sua visione sono parecchi elementi i metodi che si usano utilizzano sempre il laser da ecimeri e la tecnologia ha fatto dei notevolissimi passi avanti ultimamente mettendo sul mercato apparecchiature sempre più sofisticate sempre più precise sempre più utilizzabili con ottimi risultati facciamoci però alcune domande tutti quelli che hanno quelle caratteristiche vi ho parlato sono operabili la letteratura ci dice che il 30 40 per cento di quelli che si propongono per un intervento non sono operabili con laser e cimeri a quale età viene detto 18 anni assolutamente è il limite minimo e generalmente comunque 21 22 ma qual è il principio soprattutto se parliamo di miopia bisognerebbe arrivare a fare l'intervento quando la miopia è stabilizzata perché la miopia è un visore frattivo che tende a peggiorare negli anni fino a una certa età molto variabile peraltro tende a stabilizzarsi successo di questi interventi beh siamo attorno al 90 per cento quindi altissime possibilità di successo e soprattutto di interventi in particolare con alcuni tipi di laser e cimeri ripeto interventi risolutivi definitivi fattori di insuccesso dicevamo prima sono rari però ricordiamo uno che può essere estremamente importante una sorta di risposta dei nostri tessuti dei tessuti dell'operato che reagiscono in modo imprevedibilmente esagerato poi ci sono naturalmente gli errori chirurgici vanno messi sempre in ballo però sinceramente sono rarissimi nei centri di riferimento naturalmente adeguati l'intervento è doloroso no l'intervento è in dolore e l'anestesia è fatta con delle gocce come fosse un collirio quindi un'anestesia locale e dopo l'intervento può succedere qualcosa generalmente le cose vanno molto bene in una piccola percentuale di casi parliamo 2 3 per cento si possono avere sensazione di abbagliamento guardando delle fonti luminose un po di bruciore agli occhi peraltro estremamente fugaci e secchezza degli occhi questo è un pochino più frequente ma si esaurisce generalmente in qualche mese quindi per concludere vi dico una volta che un oculista esperto fa una valutazione preliminare e dà indicazione all'intervento per qualcuno dei vizi corregibili si può fare con la massima serenità ripeto l'ho detto ma lo ripeto l'incidenza di effetti collaterali importante è veramente modestissima grazie buonasera